Grazie Luca Rigoni, buon pomeriggio a te e a chi ci segue, a Maurizio Buccarella, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. State ancora festeggiando per Livorno? Beh no, ormai i tappi e le bottiglie spumate li abbiamo rimessi apposta, abbiamo finito di festeggiare perché c'è tanto da fare. Certo, dopo la delusione delle europee è stata una bella rivincita, no? La delusione, l'apparente delusione perché le nostre aspettative erano molto alte, è stato metabolizzato e prestissimo, abbiamo subito preso consapevolezza che il risultato non era affatto negativo, ma che costituisce una base solida di cittadinanza italiana che è consapevole, ci segue e capisce la nostra azione delle politiche. Vabbè, viva l'ottimismo, oggi azione politica precisa alla Camera, i suoi colleghi della Camera si sono astenuti sulla responsabilità civile dei magistrati, dei giudici, aprendo molte polemiche, poi a conti fatti si dice, ma per la verità hanno votato col voto segreto anche molti del PD, però è un gesto politico, perché? A me risulta che il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera si sia astenuto e peraltro questa posizione politica credo che sia anche, che risulti appunto dai resoconti della Camera, quindi c'è una posizione di astenzione che i colleghi della Camera avranno valutato in maniera ponderata e saggia, che comunque stiamo parlando di una posizione politica, di un provenimento, quello che è passato alla Camera con una maggioranza risicata che dovrà venire da noi al Senato e sarà sottoposto a un esame approfondito e ogni tipo di valutazione. Quindi lei dice che è solo un'azione strategica, poi parleremo di europeo a proposito di strategia. Ovviamente essendo al Senato non conosco le valutazioni che hanno fatto quelle della Camera, di cui ovviamente noi ci fidiamo. Senta, l'argomento politico in primissimo piano è però… L'anticorruzione. La corruzione, sì, Expo prima, poi il Mose, oggi abbiamo visto, un resto, un guardia di finanza, un provvedimento nei confronti di uno dei vertici della guardia di finanza, ecco, su questo argomento specifico voi, che siete un po' i paladini della giustizia, per qualcuno del giustizialismo, che idee avete? Noi abbiamo un'idea che sia l'idea condivisa dalla gran parte dei cittadini italiani, ogni giorno la cronaca giudiziaria ci dimostra come questi cascami di questo corpo potrescente che si è venuto a costituire in Italia negli ultimi decenni, fatto di commissioni della parte peggiore della classe dirigente, quella politica in gran parte, ma come stiamo dicendo e vedendo anche non solo politica, qui ci sono di mezzo anche amministratori, rappresentanti di istituzioni dello Stato, di livelli più alti, è l'immagine che alla fine, è il negativo di una fotografia che abbiamo già visto, che nella percezione soprattutto della maggioranza di italiani e nei dati della Corte dei Conti, la quantificazione anche del danno economico che la corruzione comporta per il paese, ormai è ben nota, parliamo di decine di miliardi all'anno, e allora noi non abbiamo la presunzione di essere gli unici a sostenere idee virtuose in tema di lotta alla corruzione, così come abbiamo fatto nella lotta alla mafia e per il 416 terre, per il traffico politico mafioso, ma possiamo sostenere di essere forse coloro come forza politica, il Movimento 5 Stelle intendo, che sono più liberi, veramente liberi di assumere ogni posizione più determinata senza dover fare i conti, evidentemente con le logiche... quantomeno perché nuovi insomma... perché nuovi, soprattutto perché coerenti, perché è una delle poche armi che noi ci riserviamo da parte nostra, avendo rinunciato a tanto, è la coerenza e la libertà di poter sostenere posizioni senza dover dar conto a lobby o interessi estranei a quelli che è il nostro programma... Siccome vi accusano però di dire sempre no, di distruggere e non sapere proporre nulla, e allora sulla corruzione, una proposta ce l'avete? Sì, noi in realtà questo mantra del Movimento 5 Stelle che è pronto sempre a dire no, che non fa proposte, non solo protesta ormai, è un mantra che viene ripetuto spesso sui media, che noi sappiamo, noi buona parte, purtroppo non tutti i cittadini italiani sanno non essere vero, in occasione dei lavori parlamentari sui disegni di legge sull'anticorruzione che riguardano anche altri reati molto importanti che vanno reintrodotti in Italia, il reato di falso in bilancio, innanzitutto che è il reato cardine, perché sulle falsità, sulle emissioni dei bilanci delle società, sia quelle quotate che quelle non quotate, poi si accresce tutto quel fiume di denaro che poi serve anche per le pratiche corruttorie sostanzialmente. Quello che noi stiamo rappresentando adesso è la volontà di incontrare il Ministro adesso sul blog di Beppe Grillo, dovrebbe essere stato già pubblicato, comunque lo sarà fra pochi minuti, la nostra lettera è un programma, una sintesi di quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle in tema di anticorruzione, di autoriciclaggio e del reato di falso in bilancio. E questo... Ma a te, incontrare il Ministro, questa è una notizia importante. Noi chiediamo di incontrare il Ministro Orlando, il Ministro della Giustizia, per che cosa? Sì, esattamente, il Ministro Orlando, perché abbiamo appreso dal Ministro Boschi la voce governativa che nel Consiglio dei Ministri del prossimo venerdì, peraltro un venerdì 13, non vorremmo che portasse male al governo e all'Italia, soprattutto questa cosa, ci sarà un Consiglio dei Ministri nell'ambito nel quale dovrebbero essere licenziati dei provvedimenti che interagiscono sul lavoro parlamentare adesso in corso al Senato. Siccome in Senato abbiamo tutti gli emendamenti, i disegni di legge, da quello del Presidente Grasso ai disegni di legge del Movimento 5 Stelle, che sono stati già oggetto di discussione, di emendamenti, il governo è già intervenuto con un emendamento sull'autoriciclaggio e questo ha comportato un rallentamento dei lavori di un paio di settimane, ora veniamo a sapere che venerdì prossimo, 13, il governo ha intenzione di intervenire con un proprio disegno di legge. Voi volete intervenire a vostro modo, cioè incontrare il Ministro per fare una proposta? Noi vogliamo dire al Ministro, e anche al Presidente Renzi, che il governo non dismetta le vesti del cappellaio, diciamo nel senso retorico, cioè di colui che vuole mettere il cappello sull'iniziativa legislativa a sacro santa, perché così facendo il governo se interviene con un suo disegno di legge, rallenterà e bloccherà per almeno un mese il lavoro in Parlamento. Quindi l'obiettivo che il governo otterrà nel momento in cui dovesse, dopo domani, venerdì, intervenire con un nuovo disegno di legge è rallentare l'adozione di queste leggi che invece devono essere approvate al più presto. Allora, se ho ben capito, voi dite no, discutiamolo insieme, collaboriamo su questo argomento importantissimo, noi abbiamo delle proposte, voi avete le vostre, è un elemento politico importante questo di novità. Ma le dico anche qualcosa di più che è bene che i cittadini sappiano, noi il pacchetto di proposte del Movimento 5 Stelle lo stiamo attingendo soprattutto dal lavoro che c'è già nella Commissione Giustizia del Senato, dove ci sono proposte… Lei è Vicepresidente di quella Commissione, perché è penalista nella vita, lei è un esperto della materia. Mi diletto della materia, non mi voglio assumere qualità. La cosa importante che volevo finire di dire è che noi al governo, al Ministro Orlando, vogliamo rappresentare questo pacchetto di misure virtuose che appartengono ai nostri disegni di legge, ai nostri emendamenti, ma non solo, anche ad emendamenti di altre forze politiche. Ci sono alcuni emendamenti del PD in Commissione che noi siamo pronti a votare favorevolmente. Il senso è, cercando anche di smontare un po' questo mantra del Movimento 5 Stelle, è chiuso in se stesso, che non dialoga e non propone. Vogliamo anticipare le mosse del governo, aiutando il governo ad adottare le misure più giuste, più calibrate, ma più incisive contro la corruzione, per reintrodurre il reato di falso in bilancio e l'autoriciclaggio. Noi sull'autoriciclaggio su cui il governo è intervenuto. Abbiamo rivelato, peraltro grazie alla trasmissione delle Iene, ci ha dato un ottimo spunto, poco più di un mese fa le Iene hanno fatto vedere come era possibile lavare del denaro sporco attraverso le slot machine e le videolotteri. Decine di migliaia di euro in un solo giorno possono essere lavate senza ottenere alcun vantaggio, ma potendo giustificare il possesso magari di quello che io ho in tasca per aver percepito una tangente o per aver spacciato un poco di droga, quel sistema lì oggi lascia il campo libero a chi vuole lavare il denaro sporco. E noi stiamo dicendo al governo, abbiamo detto in commissione e diremo domani al Ministro se ci vorrà incontrare, guardate... La richiesta è partita? La richiesta è partita, la lettera è già partita, è arrivata in queste... Siccome è domani giovedì, poi in discussione del Ministro è venerdì... Sì, chiediamo l'incontro domani. Chiudiamo questa fala, il Movimento 5 Stelle, peraltro lo dico perché sono qui negli studi di questa emittente, ma lo direi anche se fossi un'altra emittente, grazie a quel servizio del Iene, abbiamo scoperto che c'era un fronte, appunto scoperto, un lato scoperto che permette il riciclaggio, il riciclaggio di somme notevoli che possono rivenire magari da fatti di corruzione, perché no? Allora, noi aspettiamo la risposta del Ministro, ma cartellino verde, insomma è una novità politica importante, no? Ma sì, sì, noi abbiamo deciso di farlo in questa maniera anche cercando l'appoggio mediatico, perché non è la prima volta che noi siamo, normalmente noi siamo propositivi sempre nei lavori parlamentari, ma per dimostrare che noi siamo propositivi, siamo pronti a presentare questo pacchetto che ribadisco non contiene solo il prodotto Movimento 5 Stelle come se fosse l'unico e il migliore, l'unico ad adottare, ma anche altri emendamenti che appartengono per esempio al PD e anche ad altre forze parlamentari, perché il Ministro non le tenga conto e non faccia un disegno di legge e ci lasci lavorare serenamente in Parlamento. È un elemento politico nuovo, importante, che è giusto, Tony Anzio, la ringraziamo per avercelo detto qui, prima di concludere la nostra intervista, le ho chiedo, Pizzarotti, perché queste polemiche con quello che è stato il primo sindaco di una città importante, insomma. Sì, io... Adesso avete preso Livorno, poi magari col sindaco di Livorno fate la stessa cosa. L'abbiamo preso, i cittadini hanno preso Livorno così come i cittadini hanno preso Parma due anni fa. Io credo che dobbiamo sfuggire al rischio della trappola di cui rischiamo di essere noi stessi, intendo come Movimento 5 Stelle, vittime carnefici. Io non credo che ci siano problemi o polemiche particolari. Se Pizzarotti, che personalmente è un sindaco che io stimo, ovviamente io non conosco la sua attività amministrativa, ma ho sempre nutrito stima, per non parlare poi di Grillo, che è il fondatore del Movimento, è l'ispiratore, è la persona senza la quale né io, né Pizzarotti, né tanti altri come noi, se non ci fosse stato il suo coraggio e la sua azione, noi non staremmo qui da cittadini a sostenere le tesi e i programmi del Movimento 5 Stelle. Io penso che la cosa debba essere ridimensionata, è riportata fuori dal dibattito mediatico che rischia di autoalimentare una polemica che magari potrebbe non avere ragione. Tra l'altro lei è considerato un ortodosso, ma presentò l'emendamento sul reatto di clandestinità che fece arrabbiare Grillo. Sì, guardi, su queste targhette qualifiche degli ortodossi, dei dissidenti. La mia letto capogruppo per questo, perché lei era più ortodosso rispetto alla sua collega Bolognese. Io sulla stampa mi sono ritrovato ad essere sia ultra ortodosso, sia anche dissidente per qualcuno. Dissidente sul reato di clandestinità, ortodosso. Ma noi siamo fascisti o comunisti a seconda del... A proposito, lei in Europa ci sta, Kofaraj o no? Io in Europa... Dovesse decidere lei. Beh, intanto so bene che io deciderò nel limite in cui domani potrò esprimere il mio voto online, come tutti gli altri scritti del Movimento 5 Stelle. dirò la mia in base alle opzioni possibili che saranno presentate su blog e che poi corrisponderanno alle opzioni praticabili, perché al di là delle aspettative che potessi avere io, come ciascuno altro scritto al Movimento, mi piacciono più i Verdi, mi piace più Farage, mi piace più costruire un gruppo autonomo ex novo, bisogna poi fare i conti con quello che è la situazione sul campo di battaglia, diciamo così, a Bruxelles e di questo io non ho nessuna conoscenza diretta, quindi mi fido dei miei colleghi, dei nostri colleghi in Parlamento e di Grillo e dello staff che avrà fatto tutti, starà facendo tutti gli sforzi per esplorare ogni ipotesi possibile. Ci resta pochissimo tempo, torniamo all'astenzione sulla responsabilità civile dei magistrati, i magistrati commentano, ci indeboliscono mentre indaghiamo sui corrotti, come commentare questa affermazione dei magistrati? Noi, proprio perché non siamo legati ad alcun tipo di licenze o di interesse o di lobby o di corporazione di alcun tipo, noi ovviamente sosteniamo la necessità che è la magistratura che ancora oggi ci sta dando prova di essere l'unica entità in Italia che riesce a compensare, purtroppo non riuscendoci la società civile e la politica soprattutto a limitare, a riportare nei limiti del fisiologico il fenomeno corruttivo, la magistratura per fortuna che c'è, per fortuna che è in condizione di agire in maniera libera, terza e indipendente. Quelli sono i lavori ai quali noi teniamo ovviamente di mantenere la magistratura in queste condizioni di indipendenza e terza età al di fuori di ogni controllo da parte dell'esecutivo e così dovrà essere dal nostro punto di vista. Poi sulla questione della responsabilità civile noi riteniamo che un'ipotesi di responsabilità diretta, cioè parliamo del caso in cui il cittadino o l'impresa che si ritiene danneggiata per fatti di dolo o di colpa grave da parte di un magistrato possa fare una richiesta di risarcimento direttamente nei confronti del magistrato, noi ci rendiamo conto che questa cosa pur essendo sembrando anche ragionevole secondo un criterio del chi sbaglia paga, nel caso dei magistrati capiamo bene che questo può esporre i magistrati a una minore capacità di indipendenza e di libertà nel momento in cui devono confrontarsi con grandi interessi, non vogliamo lasciare il magistrato solo, certo non sarebbe neanche ragionevole dire che il magistrato può fare qualsiasi cosa perché è responsabile, in medium stat virtus. Buccarella, però la notizia del giorno ce l'ha data poco fa, la richiesta al Ministro della Giustizia Orlando collaboriamo sulla legge anticorruzione, giusto? Sì, sì, la richiesta è partita, se lei mi sta annunciando la risposta del Ministro. No, no, non ce l'abbiamo, l'aspettiamo anche noi, anzi stiamo a vedere, siamo nel nostro ultimora e lanciamo la palla a Luca Rigoni. Grazie. Grazie a lei. Buonasera, grazie.